Oggi abbiamo presentato la lista di energia civica, sono intervenuti tutti i candidati e le candidate, anzi essendo una lista a trazione femminile perché le donne in lista sono ben 13, quindi direi le candidate e i candidati. C'era parecchia gente, che dire, insomma, dal mio punto di vista è un successo, credo che la lista in città stia godendo di un gradimento trasversale, questo è quello che ci interessa perché noi vogliamo cambiare questa città con un progetto che sia trasversale chiedendo ai cittadini di mettersi in gioco perché solo se loro si metteranno in gioco noi riusciremo a portare a casa il risultato.